Nei giorni scorsi la giunta a Sant'Agata Libattiati ha di fatto stanziato 130.000 euro per il servizio di manutenzione del verde e delle aree a rischio incendi. Infatti l'esecutivo, guidato dal sindaco Carmelo Galati, ha votato un atto di indirizzo con cui, oltre a voler esternalizzare il servizio, si impegna ad affidarlo prossimamente, per il biennio 2016-2017, ad una cooperativa formata da soggetti svantaggiati, dando seguito tra l'altro ad un vecchio atto di indirizzo votato dal Consiglio Comunale nel 2009 che invitava l'amministrazione a farsi carico dei soggetti più deboli.